La Logan e il giovane Forrester La Logan e il giovane Forrester Questa sua mossa fa pensare che Brooke voglia prendere il posto di Steffi all'interno dell'azienda. Thomas non è mai stato entusiasta della presenza della Logan nel mondo dei Forrester. Difficile immaginare che al ragazzo piaccia l'idea che Brooke prenda il posto di sua sorella nell'azienda di famiglia. Ma la madre di Hope è pronta ad assumere un ruolo più rilevante e a gestire la Forrester Creations a fianco di Ridge. Quest'ultimo è abbastanza chiaro sulla questione, Steffi resterà coceo dell'azienda e questo non cambierà. Le sue parole, però, sembrano non scoraggiare Brooke, che sente di poter fare un passo avanti fino a quando la stilista non tornerà a lavoro a tempo pieno. Le ultime anticipazioni americane fanno sapere che la Logan potrebbe non voler rinunciare a questo ruolo. A complicare le cose ci penserà Thomas, pronto a tutto pur di impedire a Brooke di raggiungere il suo scopo. Il giovane Forrester è sempre stato un fratello protettivo e potrebbe, dunque, preoccuparsi per quanto sta accadendo. Questo genererà nuove tensioni in casa di Ridge. Proprio ora che Thomas riesce a riscattarsi. Salva Liam e Bill di prigione dopo essere stato rapito da Justin. Il suo gesto non può di certo passare inosservato. Negli occhi di Brooke, Thomas continua a essere una minaccia. Ora sembra che i due torneranno a essere nemici quando il Forrester sentirà di dover proteggere il posto di Steffi all'interno della Forrester Creations. Cosa accadrà dunque nelle prossime puntate? Per scoprirlo bisognerà attendere, ma questa situazione sembra preannunciare una nuova guerra in casa Forrester. Con Brooke contro Thomas e Steffi, i due figli di Ridge. Intanto, la giovane Forrester è impegnata a crearsi un futuro con Finn, padre del suo secondo figlio. Anche in questo caso non mancheranno le tensioni. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.